Grazie a Paolo per il cortese invito Che ha avuto un saldo positivo occupazionale è il sociale Parliamo di centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro Che hanno attenuato la disoccupazione galoppante Ma siamo in Italia, dove impera la corruzione e perversa interpretazione di principi e leggi fondanti Le regioni tutte e lo Stato stanno affossando la sanità pubblica Infatti fra tagli orizzontali indiscriminati, tutto passa ai privati con costi reali nettamente più elevati È dimostrato che tutte le aziende sanitarie italiane puntano sul privato per un efimero risparmio Nel bilancio dell'anno corrente senza più investire per acquisire beni proprietari ed esperienze umane Le assunzioni sono prevalentemente demandate a società i, ntirinali o comunque a tempo Così facendo si sperteranno esperienze e professionalità acquisite Come dire, io ti insegno, ti formo, quando inizi a produrre ti licenzio, una demenzialità Che dire di apparecchi e materiali di consumo Oramai la formula ricorrente è quella del full service, un particolare affitto e assistenza Che costa così tanto, che un anno e mezzo, massimo due anni d'affitto, è esoso quanto l'acquisto dell'apparecchio Per i materiali di consumo la moda porta ad acquisire ausili dal costo doppio o triplo rispetto all'acquisizione in proprio Immaginate una carrozzina o un comunicatore oculare Normalmente non hanno bisogno di nessuna assistenza in garanzia I geni, che predispongono le gare e inseriscono elementi, che fanno lievitare i service Parlo di numero verde, intervento entro 4 ore, sostituzione entro 24 ore Come se si trattasse di apparecchi salvavita, tipo un ventilatore polmonare La verità, è che ci sono bustarelle ricorrenti, oramai stanno spopolando le aziende di ossigenoterapia, CH, e forti della loro struttura operativa, gareggiano per tutto, anche per fornitura di personale per l'assistenza domiciliare Pensate ad una TAC, paghi per due anni l'affitto e non ti rimane nulla, un modo per ingrassare pochi porci, è incredibile Ma dove l'hanno scoperta questa formula geniale? Sulla gestione di TAC e risonanze, stendiamo un velo pietoso, i privati le utilizzano 12 ore, gli ospedali a malapena 5, una cosa indecente Sulle siringhe molti leghisti fanno propaganda, dicono che con acquisti centralizzati si risparmierebbero 30 miliardi Grande cazzata, probabilmente quella cifra non si spende globalmente Gli acquisti centralizzati di ausili di consumo sono una cosa deletteria, non stiamo acquistando farmaci, che sono standardizzati, e che la CONSIP, agenzia statale per le gare, acquisisce da almeno 5 anni Stiamo parlando di presidi, che vanno calzati come scarpe, DERG, cannule tracheostomiche, catetari vescicali, sondini e altro Le politiche di acquisto devono dare un prezzo minimo e massimo al, quale tutti devono attenersi, certi materiali vanno provati, non si può acquistare tutto al ribasso, è indispensabile la qualità La sanità spende ogni anno 18 miliardi in RSA e simili, è incredibile, che in molte regioni sia l'unica possibilità per molti malati Essere internati in una struttura significa essere reclusi in una prigione, anche le migliori RSA sono luoghi di sofferenza, è inconcepibile viverci anni Stai tutto il giorno in attesa, che qualcuno ti degni di un minimo di attenzione, la bava, che ti esce dalla bocca, la merda, che ti sommerge, il catarro, che ti soffoca, le notti insonni in attesa, che qualcuno ti consideri, sogni la morte come una liberazione Sono tutte sensazioni reali, che le persone pensanti vivono, tutti hanno pesanti le prigioni, i suicidi, lo stress, la tortura psicologica, per uno come me la RSA è un luogo di sofferenza indicibile, peggio di una cella di isolamento I malati devono stare in casa, in mezzo agli affetti, con personale, che ti segue 24 ore su 24, altrimenti è m e gl, io morire, cosa che avviene nelle strutture, dove le persone si lasciano andare È indegno di uno stato civile non consentire una libera scelta ad un malato, che soffre, in particolare per chi è immobilizzato a letto Per tali motivi abbiamo intrapreso una battaglia per consentire ai disabili gravi e gravissimi, e perché no, anche agli anziani, di poter esercitare la libertà di scelta Tale scelta farebbe risparmiare allo Stato il 50% della spesa per le RSA, infatti chi resta a casa, o chi torna da struttura, riceverebbe la metà della spesa pubblica Non si capisce perché tale proposta non possa attuarsi I risparmi possono finanziare i nuovi livelli essenziali d'assistenza e il fondo della non autosufficienza, oltre a creare decine di migliaia di posti di lavoro In Sardegna abbiamo un modello virtuoso, tutto inizia nei 2000 con pochi piani della legge 162, nei 2013 siamo arrivati a 33.000 piani 162 e 2.000 progetti ritornare a casa per i più gravi Certo, c'è ancora tanto da fare, ma regioni nettamente più R, i che non hanno il nostro livello Il 23 ottobre Marco Espa, consigliare regionale del PD Sardo, ha illustrato ai sottosegretari Baretta e Fada e al viceministro Guerra il modello Sardegna E' stato invitato dal comitato 16 novembre con il quale facciamo lotte comuni Il 20 novembre lotta decisiva, di nuovo a Roma, decimo presidio in tre anni Voglio parlarvi delle lotte estreme, che facciamo? Tutti ci criticano, c'è chi dice che ricattiamo, altri che trasciniamo i malati verso pericoli di vita Altri ancora che la cosa più importante è il dialogo con le istituzioni Noi riteniamo che quando c'è la volontà politica tutto si può fare, basta poco Il dialogo ha portato all'azzeramento dei fondi sociali con tagli per 2.300 milioni Senza lotte tutti hanno visto i risultati, tavoli e commissioni solo per perdere tempo Noi rischiamo la morte per avere una possibilità di vita I fatti lo dimostrano, senza le nostre battaglie i fondi sociali sarebbero zero Nei 2013 300 milioni di fondi sociali più 275 del fondo del, la non autosufficienza Tutti hanno preso i meriti, non importa, a noi interessa aver invertito la tendenza La battaglia è ancora lunga, e noi abbiamo poco tempo Sono rientrato, abbiamo portato il fondo non autosufficienza a 350 milioni portando la percentuale per i gravissimi al 45% La strada è ancora lunga, ma di questi tempi 100 milioni non sono male Chiudo dicendo che bisogna lottare duramente per avere le cose senza le quali la vita non avrebbe senso Grazie per la pazienza Grazie per la pazienza Grazie per la pazienza